Ci troviamo a Bruxelles in queste due giorni di cultura dove si è abbinata l'arte, anche la letteratura con la presentazione di un libro. Possiamo dire che il coordinatore di questa rassegna è Luca Filipponi. Sì, c'è bisogno di parlare sempre di più di cultura europea. Noi l'abbiamo fatto in un modo direi abbastanza sicuramente originale e anche un po' provocatorio. Abbiamo unito l'informazione con il mio libro 28 lezioni per capire l'Europa insieme all'arte del grandissimo maestro Giuseppe Menozzi. E l'abbiamo portata dentro le istituzioni. E quindi è un po' così come per buttare un po' il sasso nello stagno di un tema che sicuramente è molto sentito ma è più declamato che affrontato realmente. Giuseppe Menozzi, artista che ha portato le sue opere a Bruxelles. Sono venute oltre le montagne, oltre le Alpi, in terra naturalmente qui a Bruxelles. È anche comunque un richiamo, un'attenzione alla cultura, all'arte, in particolar modo a quello che può essere l'arte principe, la pittura. Sì, intanto io voglio dire che sono estremamente onorato di essere qui, in questo luogo così importante, istituzionale. E soprattutto di aver avuto l'opportunità di inserire le mie opere in tutte queste sedi, dal Parlamento, dal Palazzo delle Regioni e tante altre cose. È una cosa straordinaria, ringrazio anche Luca Filipponi che è stato l'ideatore, l'organizzatore e il curatore, il professor Puntelli che poi sentirete. Ma è stata una cosa straordinaria, secondo me è una cosa molto importante. Io spero che le mie opere e il mio lavoro possa portare un attimo, un attimo in queste sedi istituzionali, un po' di luce e un po' di serenità e di equilibrio a tutta l'istituzione, affinché possa decidere e migliorare anche le scelte, anche per il futuro. Comunque grazie a tutti. E infine il critico d'arte Gianmarco Puntelli, è stato richiamato, diciamo anche il fatto in questa giornata, delle tue poliedriche attività nel campo della cultura. Hai voluto portare questo importante artista contemporaneo qui a Bruxelles. Sì, era importante riscoprire le radici dell'Europa, delle radici spirituali e chi meglio del maestro Giuseppe Menozzi che è esposto in tantissimi luoghi, in tantissimi musei e soprattutto indaga il sacro nell'arte. Quindi il professor Luca Filipponi, un saggio che ci avvicina all'Europa, il maestro Giuseppe Menozzi, richiama nei suoi quadri il senso europeo, un maestro Giuseppe Menozzi che si prepara all'evento poi di Assisi il 21 di giugno, che si prepara soprattutto ad essere uno dei protagonisti dell'Expo all'interno della copertina del catalogo di arte moderna e contemporanea Mondadori. Infine Luca Filipponi, in questo pomeriggio hai presentato l'ultima tua opera letteraria, proprio in questa importante struttura, l'European Economic and Social Committee. Sì, 28 lezioni per capire l'Europa vuole essere una sintesi, un'estrapolazione in un unico libro, che in realtà è una duplice chiave di lettura. La prima è quella un po' più accademica, ma se vogliamo estrapolata in termini molto giornalistici. Una specie di bignami di una volta, con tutte le differenze del caso. E poi le opinioni, le opinioni di una decina di intellettuali, tra cui anche Gianmarco Puntelli, che seppur in maniera abbastanza sintetica danno un po' il senso di quello che dovrà essere, a mio modo di vedere, una nuova Europa.